Ma dalle selezioni di questo film qui non lo so sinceramente perché le persone sono tante, molti attori ci sono perché li ho visti, li conosco, nell'ambito insomma più o meno artistico dei piccoli ruoli li conosco diciamo così, però sinceramente non so cosa mi aspetta, verso l'infinito e oltre. Si fanno questi casting davvero per fare un film, per diventare famosi, per sognare o perché c'è assenza di lavoro? Secondo me entrambi le cose, però bisogna secondo me stare un po' con i piedi per terra, è chiaro che uno ci prova, poi se hai un volto interessante o meno ti chiamano, queste non sono selezioni per artori comunque di primo ordine, saranno comunque piccoli ruoli, se ti chiamano che ben venga, meglio accontentarsi.